Ecco cosa ho trovato entrando in casa Chi è stato? Chi è stato? Chi è che ha fatto tutto questo casino? Eh? Chi è? Chi è stato? Fila cuccia Sei stata te? O sei stata te? Eh? Fiammetta Sei stata te? No no Sei stata te Vero? Hai fatto tutto questo casino? Eh? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Eh? Cosa hai fatto?